Hai mai pensato a come la guardi quando siete pronti ad uscire? Un sogno fin da bambino. Insieme a lei hai progettato il futuro. Ti è accanto in ogni momento. Per lei pretendi solo il meglio. Ti accompagna ovunque. Tu voglia andare. Sì, esatto. La tua auto non è solo un'auto. È un riflesso di te, che vuoi superare ogni ostacolo. Ogni attenzione rivolta a lei è un'attenzione rivolta a te, che finalmente avrai tutto ciò che hai sempre desiderato. Non dovrai più preoccuparti di trovare tempo per la cura della tua auto. Nessuno stress. Nessun ritardo. Sarà Felix a raggiungerti dovunque tu voglia. Perché ogni tuo impegno, ogni tua sfida, ha la massima priorità. Felix. Oltre ogni limite. La perfezione. Autolavaggio e car detailing a domicilio. Da oggi anche nella tua città. Strettato. ああ. Ma chung. Ma chung. Ma chung. Ma chung. Ma chung. Grazie a tutti.